Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Faccio questo video per annunciarvi che la mia collaborazione è passata al 100% con la Gioco Libreria Semola, negozio di cui avete già visto il video come trailer al canale, e se vi ricordate, quel negozio con cui collaboro da circa un anno per tutto quello che riguarda i giochi della Games Workshop. Giochi, ovviamente, collezionismo, wargame, giochi di miniature e pitture, tutto quanto quello che riguarda. O meglio, riguardava, ma riguarda ancora i giochi della GV perché ci siamo espansi e adesso collaboriamo anche per i giochi da tavolo, visto che la Gioco Libreria Semola vende anche wargame. Abbiamo deciso di unire tutte e due le parti perché era un po' anche inutile e controproducente fare pubblicità a due negozi differenti, visto che anche la Gioco Libreria Semola, oltre a vendere giochi appunto della GV, di collezioni, colori e tutto quanto, vende anche i giochi da tavolo e da tutti quanti i maggiori editori italiani, editori esteri e in più, come potete vedere dal sito che nel frattempo vi faccio vedere, ha anche la possibilità di avere Kickstarter. Quindi tramite il negozio della Gioco Libreria Semola potete finanziare il vostro Kickstarter preferito, farvelo arrivare direttamente al negozio o perché no farvelo spedire a casa. E su tutto quanto il catalogo, quindi Games Workshop e giochi da tavolo, tutti e tutti gli editori, quando andate a fare un acquisto mettete sempre il codice sconto, Coridan 7, codice discount Coridan 7, tutto maiuscolo, per avere uno sconto del 7% su tutti i vostri acquisti. In più, se superate i 70 euro, mi sembra, 70-80 euro, ma mi sembra 70, le spese postali sono gratuite e la consegna è prevista in 48 ore. Poi, se a volte io vi presento un gioco sul canale, che vi farò sempre vedere e vi consiglierò ad andarlo a prendere dal mio negozio sponsor, mandate magari sulla Gioco Libreria Semola e questo gioco non lo trovate, contattate direttamente Corrado, che è il titolare, gli mandate un messaggio privato, arrivo dal canale di Coridan, questo gioco non ce l'ha in lista, ma si può ordinare comunque, lui farà il possibile per ordinarvelo, vendervelo al miglior prezzo sul mercato e vi ricordo, anche lì, anche su ordini di giochi che non sono in lista, usate sempre il codice discount, fatelo presente appunto, che lo utilizzate per avere lo sconto. Quindi comunque il servizio è impeccabile, il servizio è veloce, in 48 ore consegna, vi ordina anche e soprattutto della GV cose che non ha in magazzino, quindi se vedete un prodotto che è finito sul sito, non è disponibile, lo potete ordinare lo stesso a fare richiesta, magari le mandate un messaggio privato e ve lo ordina direttamente dalla Games Workshop. Tempo che arriva fra Brexit e una cosa o un'altra, ve lo spedisce direttamente a casa. Comunque, roba e pezzi che è in magazzino, in 48 ore ce l'avete. Quindi io ringrazio ancora una volta Corrado, ringrazio la Giocola Libriera Semola, che andiamo avanti da un anno, si è sempre avuto una bellissima collaborazione, e vi ricordo che tutto quello che andate a ordinare da lui, se non lo trovate in lista, di farglielo presente e di contattarlo privatamente. Usate sempre il codice sconto Coridan7 per avere uno sconto del 7% su tutti gli acquisti che farete dal suo sito. Ciao ragazzi, alla prossima!